notte turbolenta per i vipponi del grande fratello vip 6 dopo la puntata di ieri c'è chi si lascia andare a nuove confessioni e chi crolla in particolare jessica se la si è non ha digerito per nulla le accuse che la mamma di sofico de goni le ha rivolto le due gf ne dopo quanto accaduto si sono nominate a vicenda e ora la principessa al televoto rischia di uscire dalla casa di cinecittà per chi non avesse seguito la vicenda la madre dell'ex tronista duramente accusato jessica di non essere una vera amica e di aver fatto una brutta figura di fronte alle telecam sofia tentato di prendere le sue difese ma questo non è bastato ed ecco che nel post puntata la principessa si lascia andare a uno sfogo non riuscendo a trattenere le lacrime in particolare è dispiaciuta di essere passata per quella che non è non sono una s a e una che ci prova con i fidanzati delle amiche dichiara la se la si è piangendo di fronte a giacomo urtis a consolarla ci pensa anche alessandro basciano il quale le fa presente che fuori potrebbe esserci una percezione si dichiara dispiaciuto di vederla in quel modo ci divertiamo su sta cosa ammette l'ex tentatore parlando della sua intromissione tra lui e sofì a detta sua non dovrebbe piangere in quanto è convinto che fuori abbia un'immagine bellissima anzi basciano crede che sarà proprio lei a vincere questa edizione so benissimo chi sei e non devi piangere sicuramente chiarirete magari non subito conclude alessandro ma questo non è tutto nella notte delia duran si è lasciata andare a qualche confessione con miriana trevisan e manila nazzaro si parla del segreto che solei sorge a detto di conoscere che non ha intenzione di svelare poiché vuole tutelare alex belli ancora una volta la modella sudamericana precisa che non c'è nulla che lei e suo marito stanno nascondendo confessa che l'attore non avrebbe voluto che lei entrasse secondo quanto si legge su bici queste sarebbero le parole che delia avrebbe pronunciato nella notte al gf vip adesso sole dice che ha un segreto su me e alex ma quale segreto lui in tre anni non mi ha mai tradito non è vero che eravamo in crisi o che abbiamo rapporti strani come fa intendere anzi è stato qui che mi ha tradita dall'altra parte invece solei si lascia andare con natalie caldonazzo e sbilanciandosi abbastanza